Non ci siamo mai traditi. Io mi chiamo Daniele e ho un posto fisso, mentre Mario fa il grafico e lavora a singhiozzo. Noi ci vogliamo bene dai banchi di scuola e non ci siamo mai traditi. Io sono inchiodato a lui e lui a me. Ecco, io vorrei il matrimonio omosessuale, perché se muoio prima di Mario, gli potrei lasciare la pensione.